Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video della Candy Craft, il mio mondo ufficiale di Minecraft. Nello scorso episodio abbiamo provato a costruire il Beacon Block all'interno di questa piccola montagnola con il templo dell'amicizia di Emerald e purtroppo non ha funzionato neanche per un figo secco, però io poi ho fatto un test e ho pensato ma chissà, magari non funziona perché sto provando a farlo sottoterra e quindi ho provato a rifarlo là. E ha funzionato, quindi mi sono bruciato l'achievement, infatti se adesso vado negli advancement mi dice appunto bring home the beacon, quindi ha funzionato. Il prossimo achievement da sbloccare sarebbe quello di mettere la massima potenza al Beacon Block. Adesso io però l'ho tolto quel beacon dal deserto perché ne voglio fare un altro e lo voglio fare vicino al mio mondo. Sarebbe super super bello farlo all'interno della piramide, lo so, però è troppo troppo distante da casa mia e quindi non avrebbe senso, sarebbe lì soltanto per estetica, non mi darebbe effettivamente nessun potere e io voglio avere, non lo so, una forza aumentata, voglio avere la velocità, la rigenerazione, insomma robe che potrebbero servirmi. Quindi ho pensato bene di farlo vicino a casa, ma ne parleremo domani mattina. Adesso a dormire perché si è fatto tardi, quindi ciao, buonanotte. Buongiorno, come ogni giorno voi dovete fare soltanto una cosa, lasciare un mi piace a questo video per supportare questa serie, la serie della Candy Craft. Allora, io avevo intenzione di farlo più o meno qua, visto che comunque questa zona della mia Candy Craft è sempre stata così, cioè non l'ho mai toccata. Questa parte sì, ho costruito l'elmetto, qua c'era la mia skin un tempo, adesso c'è sempre l'amicizia, là c'è questo, là c'è quello, là c'è quello. Qui invece non ho mai fatto alcuna modifica, a parte il porto, a parte il porto che si trova, ecco io mi butto dalle cose, non è che scendo piano piano, no io mi lancio come un pazzo. Dicevo, a parte il porto che si trova qua, però tutto il resto, questa zona qua è sempre rimasta intoccata. È la parte della foresta della Candy Craft che non ho mai modificato, che ci fa questo qui, non lo so. Quindi credo proprio che butterò qualche albero giù e la faremo proprio qua, in modo tale che i poteri del beacon saranno vicino a casa mia. Tra l'altro ho preso degli altri blocchi ragazzi, ho farmato ancora dell'altra nederite, dell'altro oro, dell'altro ferro e anche degli altri diamanti. E in più ho visto che si può fare anche con gli smeraldi. Quindi cercherò di fare un beacon block massimo potenza con tutti quanti i minerali e ho formato tanto ferro anche perché ho dovuto craftare un bel po' di calderoni. Perché visto che ci troviamo nella versione per 1.17, quindi nello snapshot, ho imparato, cioè almeno ho capito come si fa a ottenere la neve più nevosa. Devo piazzare dei calderoni in una parte in cui nevica spesso. Questa montagna tecnicamente dovrebbe... Sapete cosa sembra? Sembra tipo... Come si chiama quella cialda? Cavolo, come si chiama? Aspettate. Waffle. Sembra un waffle. Visto? Comunque dicevo, in pratica funziona così, che tu piazzi dei calderoni in una montagna dove nevica spesso e non appena la neve cade, 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 si riempie all'interno di questi calderoni. E poi la puoi prendere con un secchio, con un secchio vuoto. Tu prendi quella neve e poi puoi piazzare il blocco di neve più nevosa. Beh, lo voglio provare perché comunque è l'aggiunta di questa versione e io ancora non l'ho provata, quindi... Boh, lo volevo fare e ho utilizzato tantissimo ferro per fare tutti quei calderoni. Adesso, quello che dobbiamo fare ragazzi è andare a prendere tutti i blocchi e anche il beacon block e cercare di dargli un design, di crearlo grandissimo. Perché voglio mettergli tutti quanti i poteri che il gioco mi permette di avere. Quindi, a quanto pare, la colpa non era mia. A quanto pare, non si può fare sottoterra. Non so per quale motivo, perché io sono abbastanza sicuro di aver visto in altri mondi un beacon block sottoterra, quindi con la luce che usciva da sotto. Evidentemente adesso non si può più fare. Che sto facendo? Non mi servono i blocchi di lapislazuli. Allora, visto che ho anche tanti smeraldi e che comunque ho un modo più o meno infinito di procurarmeli, quindi commerciando con i miei collaboratori, utilizziamo anche gli smeraldi. Sì, avete capito bene. E dobbiamo fare tanti, tanti blocchi di smeraldi. Ce ne serviranno, secondo me, almeno una ventina. Però già ce ne abbiamo una ventina, quindi più ne abbiamo meglio è. Ok, siamo a 32. Porca miseria. Riusciamo a farne veramente tantissimi. Ok, 39 e... Boom! 40! Quindi 40 di smeraldi, 35 di oro, 9 di nederite, che attenzione ragazzi, è tantissimo. Poi 56 di ferro e 26 di diamanti. Sono molti, molti materiali. Io sono disposto a spenderli tutti quanti per fare questo fantastico beacon block, perché è il primissimo beacon block che faccio e lo voglio fare per bene. Lo voglio fare bene, lo voglio fare bello e lo voglio fare super, iper potente. E in più, tutti questi materiali, tanto nel mio magazzino, stavano prendendo la muffa, cioè non mi servono a nulla. Tanto vale utilizzarli per qualcosa di figo. Allora, io direi che posso buttare giù quest'alberello qua e farlo più o meno qui. Voglio spianare tutta quanta la zona e dopodiché voglio fare il beacon block a 4 strati. Quindi quello con tutti quanti i blocchi. Voglio utilizzare smeraldo, oro, ferro e diamante e anche nederite. 5 strati. Sì, se ci riusciamo lo facciamo completo. Sarà il mio primissimo beacon block in nederite. Riusciremo, o almeno spero, a farlo funzionare con la nederite per ottenere il massimo del massimo della potenza. Del resto questi materiali li ho in magazzino da tantissimo tempo e quindi ho pensato, ma sì, dai, utilizziamoli. Alla fin fine si possono tranquillamente rifare. Non è un problema, non sto utilizzando nulla di introvabile. Sono rari, sono rari. Sì, 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 quello è vero. Però li posso rifare tranquillamente. Adesso non dobbiamo fare altro che aspettare che vadano via queste foglie. E io direi che lo potremmo anche fare qua. Sì, sì, sì. Quindi dicevo ragazzi, vediamo un pochettino dove ho scavato esattamente. Eh, ho scavato là, quindi la luce uscirà da là, è perfetto. Boh, ci sono rimasto un po' male, perché a me sarebbe piaciuto farlo proprio lì. Sarebbe stato fantastico. La luce che usciva dal templio, si trovava vicino casa, quindi il raggio d'azione era abbastanza ampio. E Minecraft, per qualche strano motivo, non me lo permette? Ok, allora Minecraft non ti preoccupare, io trovo una soluzione. Sì, 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 bisogna sempre pensare in grande. Allora, togliamo tutte queste foglie da qua e cerchiamo di fare un beacon block gigante. Però ho l'impressione che dovrò togliere anche questo albero. Sì, sta un pochettino tra i piedi. Mi spiace albero, so che sei qua da tantissimi anni. Tranquillo, ti ripianterò. Oh, una bella spianata, che non è quella che si mangia ragazzi, no, no, no. Stiamo facendo una bella spianata al pavimento in modo da creare un beacon block fantastico e gigante. Tra l'altro, a me piacerebbe poi costruire qualcosa sopra il beacon block. Quindi prima lo costruiamo, dopodiché gli faccio tipo una specie di templio, non lo so. Ovviamente suggeritemi voi ragazzi, se avete delle idee in mente, per favore scrivetele qua sotto nei commenti. Allora, faccio quanto più spazio possibile giusto per assicurarmi di non dover fare tutto quanto da capo di nuovo. Questa volta deve funzionare una volta per tutte. Quindi il beacon sarà messo esattamente qua. Allora, facciamo adesso un attimino il layout. Sentite che termini aulici che utilizzo. Allora, i blocchi che abbiamo di più in assoluto sono quelli di ferro, per cui utilizzeremo il ferro per fare la base. Uno, due, tre, quattro, io credo di doverlo fare qua, giusto? Quindi tutto qua attorno. Io lo voglio fare alto cinque blocchi, quindi uno, due, tre, quattro, cinque. E poi il beacon qua. Perfetto. Togliamo queste foglie che sono di impiccio. Adesso non devo fare altro che creare la nederite attorno. Per farlo dobbiamo fare così. Perfetto. Quindi questa qua è la base di sopra di nederite. Sì, lo so, sono la persona più strana del mondo perché sto facendo il beacon block al contrario. Ma è importante? Non è importante ragazzi. Ah, devo metterlo anche lì dentro. Mi ero dimenticato, mi ero totalmente dimenticato. Quindi devo metterlo anche qua io. Così. Qua ho sbagliato qualcosa? No. Ok. Al momento sta andando tutto bene. Sembra che abbiamo abbastanza blocchi per far tutto. Adesso metteremo l'oro. Che spero sia abbastanza. Oh mio Dio, mi sa di no. Mi sa proprio di no. Non basterà mai. Quanti cavolo di blocchi servono per farlo grande come voglio io? Mio Dio se ne servono. Allora, gli smeraldi non sono un problema perché comunque li possiamo ottenere, come vi dicevo appunto, con i villager. Ok, si è fatta notte. Andiamo a dormire. Gli smeraldi li possiamo farmare con i villager. Quindi possiamo ottenerne ancora tantissimi e fare degli altri blocchi. No problem. L'oro sarà un po' più difficile. Comunque andiamo a dormire. Ci penso domani mattina. Il ferro io non so, non penso di averne dell'altro. Vabbè, qua ne ho uno, ma chi se ne frega di uno. Ok, 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 ok. Oh, di già. Non l'ho neanche completato e già funziona. Ok, per ora va soltanto il fascio di luce. Il che è positivo, ragazzi. Ho craftato il mio primo beacon block e funziona. Fantastico. Ottimo. Allora, io se non mi ricordo male avevo messo a cucinare dell'oro. Che dovrebbe essere qua. Perfetto. Ah, è anche del ferro. Ok, non troppo oro in realtà. Me ne servirebbe un altro pochettino. Cavolo. Va bene, va bene. Nessun problema. Noi intanto facciamo quello che possiamo. E poi magari in qualche altro episodio lo completiamo totalmente. L'importante è che al momento stia funzionando. E soprattutto stiamo facendo la versione gigante del beacon block. Non stiamo facendo quella piccolina che fanno tutti. No, ragazzi. Qua non si bada a spese. Se devo fare una cosa io la faccio bene. Quindi facciamo un bel beacon block gigante. Eccolo qua. Sì. Tutti gli strati. Tutti i materiali. Ok. E adesso facciamo anche il ferro. Sì, lo so ragazzi. Devo ancora riempire tutti gli interni. Ma come vi dicevo, quello lo facciamo dopo. Quando otterremo ancora più blocchi. Perché a quanto pare questi non erano abbastanza. E io che pensavo di averne presi abbastanza. Anzi, io pensavo addirittura che questi blocchi mi sarebbero avanzati. Eh, stupido me. Ok. Boom. Perfetto. Ecco il nostro beacon block. Cioè, ragazzi. Questo è un tesoro estremamente, estremamente costoso. Se viene un ladro qua dentro e si prende tutti questi blocchi diventa straricco. Ok. Quindi adesso abbiamo... Che effetti abbiamo? Posso scegliere? Posso scegliere? Posso scegliere quel che voglio. Allora, ovviamente non sono tutti quanti attivi. Perché la base di sotto non è riempita, come vi dicevo. Quindi non appena la riempiremo. Sì, li potremo scegliere. Al momento io direi che potremmo mettere velocità. Poi cosa faccio? Ah, gli do... Gli do... Oh. Oh. Sacrifico un blocchetto per avere più poteri, forse. Ora ho velocità. E se voglio mettere anche resistenza posso? Me li da entrambi? No, me ne da uno soltanto. Sì, me li da entrambi! No! Ok, adesso mettiamo anche aste. Ok, ne posso mettere solo due. Perché abbiamo soltanto due livelli pronti. Ok, allora facciamo... Non facciamo aste, non mi serve a nulla. Mettiamo velocità. Sì, lo so, mi è costato tantissimo. Non c'era bisogno di farlo così bello e così grande. Ma non importa, ragazzi. Le cose o si fanno bene o non si fanno. E poi in qualche altro episodio... Oddio. Sto per fare una promessa che probabilmente non manterrò. Oppure ci metterò tre anni a mantenerla. Però in qualche altro episodio mi piacerebbe costruire un templio qui in modo da abbellirlo e far uscire questo raggio di luce fuori dal templio. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Anzi, avevo promesso che avrei ripiantato quell'alberello e quindi adesso lo ripiantiamo. Dal vostro candle è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!